La Giunta Comunale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione Nicola Corigliano, alla luce delle nuove disposizioni rivenienti delle linee guida approvate dalla Regione Calabria, ha predisposto il piano di dimensionamento scolastico comunale per il triennio 2024-2027. Gli studenti sono scesi in piazza per contestare l'ipotesi di una nuova rete scolastica elaborata dall'ente intermedio, che prevede lo smembramento degli indirizzi delle due scuole e il loro accorpamento ad altri istituti superiori e la fine di fatto dell'autonomia dei due storici istituti. L'iniziativa è stata organizzata dai rappresentanti degli istituti Pertini, del Nautico e dal Comitato Associazione Margherita, APS. Si tratta di una manifestazione congiunta che prevede la partecipazione di genitori, studenti e docenti. L'obiettivo è quello di arrivare alla correzione del progetto, che penalizza in particolare alcune scuole che operano nella città capoluogo di provincia. Al momento una delegazione di studenti e docenti è stata ricevuta dal presidente della provincia, Sergio Ferrari.